ciao a tutti amici e soprattutto amiche a parte gli scherzi questa citazione dalla jalapas ma in realtà poi pensandoci sono anche curioso c'è qualche ragazza donna che segue il canale lasciate un commento sono curioso non penso ci sia nessuno io scommetto che non c'è nessuno ce l'ho lasciati con queste tre carte che erano i miei ultimi arrivi è arrivata un po di altra robina e oggi l'andiamo a vedere insieme allora questo è il pacchettino non sono tante allora partiamo da questo william regal che è sempre della serie dorras una delle ultime uscite per panini come direbbe il mio amico maes mangiata dai topi è una die cut in termine tecnico è numerata alle 24 quindi anche una buona numerazione un bel riflesso carta fatta bene william regal è uno degli storici miei preferiti e quindi ne ho approfittato a un buon prezzo e l'ho presa poi partiamo con gli autografi non sono tanti ma comunque ci sono c'è questo autografo di baron corbin che ultimamente si è visto più a nxt e anche questo numerato alle 49 firma on card col colore rosso come la carta sono fatti apposta queste quindi mi sembrava carina e ne ho approfittato insomma un buon prezzo e sta c'è stato un periodo in federazione di corbin come top hill addirittura ma parliamo di diversi anni fa erano venuti in italia ancora ai tempi quindi parliamo del 2017 16 17 e aveva fatto bene comunque un ottimo atleta andiamo avanti e qui invece più che un atleta uno che si è occupato di gestire le cose per tanti anni in wcw e in wwe eric bischoff e qui l'immagine un po storica non certo delle più recenti chi se lo ricorderò ma parliamo comunque di ormai saranno vent'anni fa 15 forse non di più non di meno firma carina lunga estesa ma on sticker non è tanto che infici il valore di questa carta che non ha un valore di per sé elevato però è particolare diciamo che bischoff non si vede tutti i giorni nelle firme per cui mi piaceva e è venuta casina non è numerata poi veniamo alle ultime tre e sono intanto un impeccable carta di pregio simondin una delle poche impeccable con la firma o sticker io credo perché di solito sono tutte on card però c'è da dire che lui non si trova spesso non ne ho viste tantissime di card sue mi piaceva ai tempi così mi è rimasto in mente e allora ho voluto prenderla forse l'ho pagata anche più di quello che dovevo però ci tenevo alle 75 quindi non è particolarmente rara diciamo una cosa media e mortal ink della serie impeccable poi veniamo a una carta che ci ho lasciato il cuore non potevo non prenderla che è quella di sandman che ha seguito l'ECW negli anni 2005 2006 quando era ritornati quando in wwe l'avevamo deciso di riportare su e si era fatto vedere lui spesso quindi adesso tolgo anche la plastichina perché è molto più bella così mi piaceva proprio come era fatta la carta lui la firma on card bella la numerazione alle 25 sempre in mortal ink la stessa serie di simon dean e che dire lui era uno dei miei preferiti per cui molti non si ricorderanno molti non sapranno neanche chi fosse andatevelo a riprendere sui video su youtube iconica l'entrata che entrava in mezzo alla gente e si spaccava una lattina in testa va bene e per finire una scommessa l'ho tenuto per ultimo solo per la numerazione è una scommessa proveniente da nxt l'ho trovato a un buon prezzo quasi regalato per una card con la numerazione 9 di 10 come potete vedere firma on card versione gold vi posso far vedere che ad esempio notate la differenza questa è sempre una del set impeccable serie watercolor il nome scritto in alto vedete che mentre wesley che è alle 75 è sfondo grigio le lineette qua sono grigie qua è oro perché è appunto uno di 10 chiamata gold e quindi niente ci ho voluto puntare vediamo se farà bene vediamo se sparirà però alle 10 io visto che punto più o meno avere una card di tutti fino a 20 euro mi sento di buttarli per card poi magari se fanno bene sono contento e ci avrei speso molto di più dopo se fanno male sono 20 euro buttati ma come vedete non me ne arrivano tante e tanto spesso per cui per una volta si può fare comunque per una di 10 è un buon colpetto quindi niente questi sono i miei nuovi arrivi ovviamente la disposizione che faccio lascia sempre a desiderare e vi avviso già e sono molto contento che farò un altro video prossimamente ho oggi ha finalizzato un ordine da ebay mi arriveranno diverse impeccable poi andiamo anche a valutare rispetto a comprare un box e quanto speso io non sono nomi di punta ma sono card interessanti che cercavo da alcune cercavo da un po altre con buone rarità per cui fatemi sapere intanto se conoscevate questi sei perché forse di questi sei l'unico che si è visto in wwe negli ultimi anni è stato baron corbin e nemmeno tanto quindi magari non le conoscete nemmeno queste sono diciamo dei beside delle delle chicche nascoste spero a presto anche per parlare di chronicles che stanno uscendo quindi sarà interessante anche quello non so ancora se porterò un box sul canale o meno perché con la sfortuna che ho pulo sempre male e poi rosico di brutto però chissà vedremo appuntamento al prossimo video che sarà fra al massimo due settimane voglio sperare ma probabilmente ne farò uno sulle chronicles primo ciao a tutti ciao a tutti